Oggi ho proprio voglia di darvi un consiglio. Dite sempre le cose come stanno. Avete presente quando vi sentite con qualcuno? Va tutto bene? Vi siete simpatici? Addirittura iniziate ad avere una certa complicità. Ma quando dite che siete in carrozzina, la persona risponde che non è un problema. Poi ad un certo punto si distacca e dice di non essere pronto per una relazione. Dopo due settimane vi ritrovate la storia su Instagram di questa persona, abbracciata ad una ragazza con una bella scritta in grande, l'amore della mia vita. E meno male che non era pronto. Ovviamente mi son posta subito una domanda. E se non fossi stata in questa condizione, sarei riuscita a portare avanti la frequentazione? Se lui mi ha rifiutato, vorrà dire che non sono abbastanza. Perché per voi ragazzi sembra così difficile avere una relazione con una ragazza in carrozzina? Alla fin dei conti possono esserci delle difficoltà, ma possiamo dare tanto. Quindi, se hai intenzione di intraprendere una relazione con una ragazza per poi scoprire che è in carrozzina, mi raccomando, non sparire. E se proprio non riesci, sii sincero.